ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo dell'uomo di varna la sepoltura più ricca del quinto millennio avanti cristo se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale di vanilla magazine negli anni 70 un operaio di nome raiccio marinov scoprì per caso la necropoli di varna in bulgaria l'uomo stava lavorando con l'escavatore quando vennero alla luce alcuni oggetti che erano sepolti nel sottosuolo da millenni marinov non poteva immaginarlo ma lui e il suo mezzo avevano scoperto uno dei siti più importanti per la comprensione della preistoria del genere umano dopo di lui si occupò del sito l'archeologo ivan ivanov che procedette all'organizzazione dello scavo che durò dal 1972 al 1991 e alla successiva musealizzazione dei reperti se all'apparenza poteva sembrare una scoperta come potrebbero essercene molte altre in europa fu nel momento in cui venne trovata la sepoltura 43 che si capì appieno l'importanza della necropoli al suo interno si trovava un maschio adulto con ricchezze al di là di ogni immaginazione l'uomo era riccamente accompagnato dai primi gioielli in oro mai ritrovati nella storia nonostante si affermi sovente che la culla della civiltà sia la mezzaluna fertile quindi la zona che va dalla mesopotamia all'egitto la civiltà di varna aveva all'epoca tecnologie di orificeria sconosciute ai più celebri popoli asiatici e africani la cultura di varna come è poi diventata nota era una civiltà avanzata più antica degli imperi della mesopotamia e dell'egitto e la prima cultura in assoluto che riuscì a creare manufatti in oro varna era anche il luogo dove venne realizzata la più grande necropoli preistorica conosciuta nell'europa sudorientale che riflette ricchezza di pratiche culturali complessi riti funebri un antico sistema di credenze e la capacità di produrre beni sapientemente lavorati essa è diventata nota anche come la culla della civiltà europea vicinissima a solnizzata la più antica e ricca città del nostro continente i reperti archeologici mostrano che tra il 4600 e il 4200 avanti cristo inizia una grossa produzione di orificeria nella zona di varna man mano che si apprendeva la competenza della lavorazione aurea i commerci della zona diventarono fiorenti perché i suoi abitanti avevano beni preziosi da scambiare con le altre civiltà gli uomini di varna aprirono quindi relazioni commerciali con alcune regioni del mar mediterraneo e nello stesso mar nero che consentirono loro di svilupparsi rapidamente la profonda baia lungo la quale si trovava l'insediamento di varna forniva un comodo porto per le navi che viaggiavano attraverso il mar nero e la zona divenne un prospero centro per i commerci l'intensificazione dell'attività commerciale consentì agli orafi di accumulare ricchezza e molto rapidamente si sviluppò un grande divario sociale fra chi produceva oggetti in oro e chi invece era semplicemente commerciante o agricoltore nell'antica necropoli di varna sono state scoperte circa 300 tombe e recuperati 22.000 manufatti tra cui oltre 3.000 oggetti in oro e il peso del metallo prezioso è di 6 kg complessivi superiore a tutti gli altri reperti aurei scoperti in necropoli coeve in tutto il mondo altre reliquie includevano oggetti in rame e strumenti di selce gioielli conchiglie di molluschi mediterranei ceramiche lame di ossidiana e perline l'analisi delle tombe svelò che la cultura di varna era una società altamente strutturata i membri dell'it erano sepolti in sudari con ornamenti d'oro cuciti negli involucri di stoffa e le loro tombe erano piene di tesori come ornamenti d'oro pesanti asce di rame e ceramiche riccamente decorate mentre le tombe di persone più in basso nella scala sociale avevano semplici sepolture con pochi oggetti come corredo funebre sebbene siano state scoperte molte sepolture dell'elite cittadina ce n'era una in particolare che spiccava tra le altre la tomba 43 all'interno di questa gli archeologi hanno scoperto i resti di un uomo di alto rango che sembra essere stato un sovrano o un leader di qualche tipo in questa sepoltura è stato trovato più oro che in tutto il resto del mondo in quel periodo i resti divenuti noti come l'uomo di varna furono trovati con uno scettro un simbolo dell'alto rango o del potere spirituale e persino con una guaina d'oro massiccio adagiata sul pene la sepoltura è significativa non solo per la ricchezza del corredo funebre anche perché è stata la prima sepoltura maschile dell'elite conosciuta in europa prima di questa si erano trovate solo donne e bambini onorate con elaborati corredi funebri maria jimbutas un archeologa lituano statunitense ha avanzato l'ipotesi che alla fine del quinto millennio avanti cristo iniziò la transizione dalle società matriarcali di stampo indoeuropeo al dominio maschile in europa proprio nella cultura di varna è stato osservato che in questo periodo gli uomini hanno iniziato a ricevere il miglior trattamento postumo le sepolture nella necropoli di varna hanno offerto molto di più dei preziosi manufatti rinvenuti al loro interno e delle scoperte relative alle gerarchie sociali le tombe hanno anche fornito approfondimenti chiave sulle credenze religiose e sulle complesse pratiche funerarie di quest'antica civiltà uomini e donne venivano disposti in modo diverso all'interno delle tombe i maschi erano distesi sulla schiena mentre le femmine rannicchiate in posizione fetale forse la cosa più sorprendente di tutte è stata la scoperta che alcune tombe non contenevano alcuno scheletro ma erano le più ricche in termini di quantità di oro e altri tesori trovati al loro interno alcuni di questi sepolcri simbolici contenevano anche maschere fatte di argilla cruda poste nella posizione in cui si sarebbe dovuta trovare la testa le tombe contenenti le maschere di argilla contenevano anche amuletti d'oro con sembianze femminili posti nella posizione in cui sarebbe stato il collo questi amuletti indicano che le sepolture erano destinate alle donne a ulteriore riprova di ciò è il fatto che non furono trovate asce da battaglia all'interno ma ognuna di esse avevano spillo di rame un coltello di selce e un fuso a spirale entro la fine del quinto millennio avanti cristo la cultura di varna un tempo forte e potente iniziò a decadere è stato ipotizzato che la caduta della civiltà sia stata il risultato di una combinazione di fattori tra cui il cambiamento climatico che ha trasformato vaste aree di terreno coltivabile in paludi ma anche l'incursione di guerrieri a cavallo dalle steppe sebbene non si conoscano discendenti diretti della civiltà di varna i membri di questa antica cultura hanno lasciato un'eredità a duratura e hanno posto le basi per l'emergere delle civiltà successive in tutta europa le loro abilità nella metallurgia erano uniche in tutto il mondo e la loro società aveva già molte caratteristiche di una civiltà altamente avanzata e sviluppata gli uomini di varna concepirono anche una struttura sociale dotata di un'autorità centralizzata una persona o istituzione in grado di monitorare e garantire il corretto funzionamento della società un modello di civiltà che seguiamo ancora oggi